Un sorriso che riempie la scena, disponibile ed espressiva. Miriam Leone al Bobbio Film Festival. La luminosa attrice catanese si è concessa al bagno di folla del chiostro di San Colombano nella serata in cui è stato proiettato Il Testimone Invisibile, un thriller che inghiotte lo spettatore in un vortice di colpi di scena e tensione, sul filo della paura. Miriam ha lanciato il suo link con il festival. Sono felice di essere qui a Bobbio e sono anni che aspetto di venire a questo festival. Finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta. Sì, con Marco ho avuto l'onore, la fortuna e il piacere di lavorare e già mi aveva parlato di Bobbio, che tra l'altro è una città che ha una storia incredibile, che pochi conoscono, quindi sono felice anche di essere qui a imparare cose nuove e a conoscere cose nuove. Presentiamo Il Testimone Invisibile. Ho visto già un po' di biglietti in giro, visto che avete staccato tanti biglietti e quindi si respira una bellissima atmosfera qui al festival. A moderare l'incontro post-proiezione, nell'occasione è stato chiamato il critico cinematografico Anton Giulio Mancino, che ha rilasciato il suo personale punto di vista sul film. C'è una trama gialla, degli scatti da thriller e poi noir, perché è tutto profondamente nero, ma non aggiungo una parola, perché se anche qualcuno che ci ascolta non l'avesse mai visto, farei un crimine.